Nel video di oggi vedremo come aumentare la dimensione del font WhatsApp. Andiamo su WhatsApp. Andiamo alle opzioni. In questo caso sono in alto a destra, ma possono essere altrove a seconda del cellulare. Impostazioni. Chat. Di. Dimensione del font. Selezioniamo la taglia che vogliamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.